Ricorso al Tarra per scongiurare la chiusura del South di Gioi. E questo quanto è stato deciso ieri sera al termine della seduta del Consiglio Comunale Straordinario, convocato proprio per discutere esclusivamente della possibile soppressione del servizio, scaturita dal piano di emergenza Urgenza, recentemente presentato dal manager dell'Asla di Salerno, Antonio Squillante. Nei prossimi giorni, ha spiegato il primo cittadino, Andrea Salati, ci confronteremo con gli avvocati per mettere a punto un'azione legale che possa bloccare l'immotivato provvedimento. Nel corso del consesso pubblico a cui hanno preso parte molti sindaci del Cilento, nonché il vicario della diocesi di Vallo della Lucania, Don Guglielmo Mamna, gli operatori sanitari del territorio e una nutrita schiera di cittadini, è stata posta all'attenzione sul fatto che nel contratto siglato dal comune con l'Asla nel 1997, si legge che prima di poter racchiudere la struttura è necessaria una comunicazione ufficiale da recapitare almeno tre anni prima, cosa che ha rivelato Salati non è mai arrivata, visto che abbiamo appreso tutto dalla stampa e il relativo documento è stato pubblicato solo il 16 settembre. Al Consiglio Comunale il primo cittadino di Gioi aveva invitato anche il ADG Squillante, che però non ha rimesso alcuna risposta al sindaco. Il rammarico forte ha concluso Salati e che si sia voluto colpire Gioi senza che poi vi fosse alcun motivo per farlo, ma si è venuto a creare un danno rilevante a tutto il territorio, visto che il presidio sanitario presente a Gioi serve almeno altri 15 comuni. Grazie.